Parliamo di rifiuti, ci sono due questioni per le quali il Movimento 5 Stelle chiede chiarezza, trasparenza in tempi ristretti e ricorre alla magistratura. Sì, noi abbiamo presentato due esposti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti. Il primo riguardava la mancata nomina dei commissari ad acta da parte della Regione per quei comuni che non hanno ancora raggiunto la quota di raccolta differenziata prevista dalla legge. La seconda è l'affidamento di, non si capisce ancora bene, se è una modifica o la redazione di un nuovo piano regionale sulla gestione dei rifiuti alla OICOS. Purtroppo noi pensiamo che queste siano due azioni che la Regione stia portando avanti perché vuole continuare sulla strada da un lato del TMB che produce CDR e dall'altra la costruzione di inceneritori per smaltire questo CDR. Intanto doppio appondamento per il Vice Presidente della Camera, Di Maio, che sarà la sera qui a Chieti. Esattamente, per continuare il tema dei rifiuti il Presidente Di Maio sarà ospite a Chieti, ospite del Meetup Chieti 5 Stelle domenica 29 alle 20.30 per un cineforum che abbiamo chiamato Soldi, Monnezza e TV per fare un po' di informazione. Alle 20.30 vi aspettiamo in Piazza GB Vico, in caso di pioggia, lo dico perché le previsioni non si sa mai, Polo Tecnico della Provincia. Intanto nel pomeriggio invece visita a Pescara. Piazza Lotto, Piazza della Rinascita, alle ore 17 verrà il Vice Presidente della Camera, Luigi Di Maio, che non è mai stato a Pescara e ci confronteremo con tutti i cittadini per affrontare la tematica della delegittimazione del Parlamento nel suo potere principale, che è quello legislativo. in quanto sono ormai tanti anni, ormai sono tre governi anzi, in particolare tre legislature, che il Parlamento ha come media di approvazione di leggi direttamente portate dai parlamentari 1,2 l'anno. Cioè noi paghiamo, i parlamentari sono lì, per svolgere solamente opera di approvazione di decisioni che vengono prese dal Governo.